La signoratina oggi compie 100 anni, siamo qui a farle gli auguri, ma la cosa che ci ha colpito dalla signoratina è la sua incredibile memoria. Signoratina, quanti figli ha? Tre. Quanti nipoti e quanti pronipoti? Ho cinque nipoti e due pronipoti. Signora, sappiamo che stanotte alle cinque lei ha ricevuto una telefonata particolare, che diceva questa telefonata? È nata l'ultimo, è nato il secondo pronipote. Signora, ma visto che lei ha... Mi vogliono un sacco di bene, fanno l'impossibile per non farmi mancare niente e per tutto. Ok, allora praticamente lei in questo momento... Sì, sono felicissima. Oggi è una giornata...